Iniziamo con la professoressa Agostino, con Alessandra, prego. Allora, grazie Maurizio e grazie agli organizzatori di questo incontro molto partecipato. Mi ha fatto piacere che Maurizio abbia ricordato Venaus, anch'io Ravenaus quel giorno, ed è uno dei momenti più belli che ricordo, insomma, del 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 passato, una delle una delle poche vittorie e uno dei momenti comunque più più coinvolgenti. Allora, a me spetta cercare un po' di fare un discorso su quello che è il senso forse della della nostra democrazia, della deriva in realtà autoritaria che stiamo vivendo e di quello che secondo me è il filo nero che regala le varie ipotesi di criminalizzazione del dissenso. Parto da una considerazione che non c'è democrazia senza conflitto, cioè il riconoscimento dei conflitti che attraversano la società è una precondizione e allo stesso tempo il cardine di una democrazia come quella disegnata nella nostra costituzione che è una democrazia conflittuale, è una democrazia pluralista, è una democrazia sociale, cioè sono i conflitti che assicurano alla democrazia la sua vitalità, il suo legame con la materialità della storia ricordando, come diceva Rosa Luxemburg, che il faticoso movimento delle istituzioni democratiche possiede un potente correttivo proprio nel movimento delle masse, nella loro pressione in interrotta. Ecco il carattere pluralista e conflittuale della democrazia induce non solo a tollerare il dissenso, bensì a valorizzarlo. La Costituzione ragiona di partecipazione effettiva come fine e insieme come strumento, cioè non di accettazione passiva o di acquiescente indifferenza, ma di una compartecipazione che attiva e consapevole, che nasce da un'informazione e da una discussione plurale, nella quale è imprescindibile il pensiero critico, il dibattito delle differenti opinioni anche quando, come dice la Corte Europea, dei diritti dell'uomo urtano o inquietano. E la Costituzione riconosce gli strumenti che presidiano l'espressione del dissenso. Da un lato partiti e organi rappresentativi, dall'altro gli strumenti che vi sono nella società dal basso. Pensiamo ad esempio al diritto di istruzione come fondamento della capacità critica, alla libertà di manifestazione del pensiero, alla libertà di associazione, al diritto di riunione e allo sciopero come strumenti di espressione diretta del conflitto. ma è coerente con la partecipazione effettiva e con la valorizzazione del dissenso, anche l'orizzonte della disobbedienza civile, che esprime una partecipazione dissenziente e si avvicina a quel diritto di resistenza che non è stato inserito in Costituzione, ma oggetto di ampia discussione in Assemblea Costituente. Ecco, oggi invece viviamo una deriva autoritaria, una rivoluzione passiva, che è contrassegnata da un neoliberismo che stringe sempre legami più stretti con quello che è l'autoritarismo, il modello Bolsonaro, che non abbiamo solo in Brasile, e la Costituzione è accantonata come anacronistica. Non è un caso, perché la Costituzione rappresenta un'altra visione del mondo, rappresenta un progetto di trasformazione nel segno dell'emancipazione. Cioè la Costituzione, possiamo dire, esprime anch'essa dissenso, e come il dissenso è repressa, è neutralizzata. Ricordo un report del 2013 della JP Morgan che definiva le Costituzioni dei Paesi del Sud Europa come Costituzioni da cambiare, perché garantiscono troppo la protesta, i diritti dei lavoratori e hanno degli esecutivi troppo deboli. Ecco, la lotta, come ricordava Gallino, condotta dall'alto per recuperare i privilegi, i profitti e soprattutto il potere, non tollera dissenso, non ammette alternative, è il Tina, Taceriano, non ci sono alternative. La diffusione del nazionalismo, ad esempio, oggi, con la sua identità artificiale e conservatrice della tria dei dio patria famiglia, è utile in questo senso proprio a compattare e a distrarre dal conflitto sociale, omologa in una logica che non è di conflitto e di pluralismo, ma di amico nemico e dell'altra faccia il nazionalismo della repressione. Ma vediamo quali sono alcuni fili, alcuni nodi di questo filo nero della criminalizzazione del dissenso. Un primo punto, il ricorso alla categoria dell'emergenza e la normalizzazione dell'emergenza. Sono tanti i contesti. Pensiamo alla legislazione antiterrorismo, nata nel 2001, dopo l'attacco alle torri gemelle, e poi continuamente proregata. Pensiamo alla gestione dell'immigrazione, l'immigrazione è un fenomeno strutturale, trattato come eterna emergenza, con un paradosso ovviamente. Pensiamo all'emergenza sanitaria, che ci ha lasciato l'ampio ricorso ai dpcm. Secondo punto, pensiamo al cambiamento del concetto di sicurezza. Il concetto di sicurezza non è più sicurezza come terreno fertile per garantire i diritti, ma è sicurezza come ordine pubblico, contrapposto all'idea anche di sicurezza sociale. Terzo punto, pensiamo alla restrizione tucur dello spazio dei diritti e penso in particolar modo al diritto di riunione che citava prima Simona. Penso alla direttiva Lamorgese del 2021, ma anche alla direttiva Maroni del 2009, che hanno limitato nelle modalità e nei percorsi le riunioni, violando l'articolo diciassette della Costituzione, ma nello stesso senso le varie ordinanze che possono adottare i sindaci o le ordinanze prefettizie. Poi, ancora, possiamo citare la creazione di zone rosse, di zone a divieto d'accesso, l'area del cantiere interdetta in Val di Susa, l'area di interesse strategico nazionale. Ancora, altro punto, utilizzo dello strumento penale come diritto penale del nemico e qui l'elenco è molto lungo, ne cito qualche esempio. Si incide sulla legislazione, cioè si introducono nuove fattispecie o si fanno rivivere vecchie fattispecie. Penso ad esempio al blocco stadale, alla punizione dei rei. Si aggravano le pene per l'occupazione di terreno e di edificio, ad esempio. Si ricorre in maniera distorta, cioè si abusa di strumenti come le misure di prevenzione o le misure cautelari, la sorveglianza speciale, il foglio di via, l'obbligo di dimora, eccetera. Oppure si qualificano dei fatti in maniera inappropriata, con qualificazioni giuridiche sovradimensionate. Pensiamo al terrorismo, pensiamo alla strage contro la sicurezza dello Stato, mi riferisco alla vicenda recente di Alfredo Cospito, ma pensiamo anche alla dilatazione della resistenza, dell'oltraggio a pubblico ufficiale. Cioè si fuoriesce dall'idea di un diritto penale fondato sul fatto, sulla condotta e si va verso un diritto penale fondato sul tipo di autore. Ancora, viene utilizzato in chiave repressiva anche il diritto civile, il diritto amministrativo. Pensiamo ai risarcimenti danni, quello del movimento dell'acqua ad esempio, le multe, il DASP urbano. Oppure pensiamo a quanto avviene nei rapporti di lavoro, licenziamenti, sanzioni disciplinari. Proprio ieri ad esempio trentun lavoratori sono stati licenziati a Parma per averci operato. Pensiamo al ricorso in senso ampio alla figura del nemico e alla logica dicotomica amico-nemico. pensiamo al linguaggio bellico che è stato utilizzato in pandemia e alla criminalizzazione dei Novax, ma soprattutto all'impossibilità ad esempio di contestualizzare la guerra in Ucraina e di criticare l'invio delle armi che è contrario alla Costituzione. Tenta passare come putiniani o come nemici. Possiamo ragionare in questo proposito proprio una vera e propria militarizzazione della democrazia. O ancora, pensiamo alla criminalizzazione della solidarietà. La solidarietà è un principio costituzionale, ma da principio costituzionale diviene un'azione da perseguire con strumenti anche qui, con strumenti penali. Pensiamo al codice di condotta dell'ONG di Minniti, pensiamo al recente decreto piantedosi, pensiamo al decreto Salvini Bis, gli esempi anche qui sono molti. La criminalizzazione della solidarietà si accompagna sempre in questo filo nero alla disumanizzazione e alla criminalizzazione di alcune categorie di persone. Le cosiddette vite di scarto, come le definisce Bauman, migranti, poveri, carcerati. La storia della criminalizzazione dei migranti è emblematica in questo caso, perché si inizia con il cosiddetto clandestino e si finisce poi per criminalizzare il richiedente asilo, come il turfatore che cerca semplicemente un escamotage per entrare all'interno del territorio. E ancora, questo è legato alla colpevolizzazione della povertà, la messa in atto di quelle che possiamo definire come delle vere e proprie necopolitiche, che altro non sono, per usare un vecchio termine invece, che politiche di classe, per colpire determinate classi e per caricare la responsabilità delle diseguaglianze. Ecco, in tutti questi casi si reprime chi agisce un conflitto con azioni politiche, con la solidarietà, con il suo esistere, i migranti, i poveri, i carcerati, e si intende negare l'esistenza del conflitto. Chi vive le diseguaglianze non è considerato come un oppresso, un subalterno, anche qui per usare il termine che si usava una volta, ma è considerato come un imprenditore di se stesso che ha fallito in un sistema che di per sé è intoccabile. E poi c'è la repressione preventiva del distenso, del conflitto, che passa attraverso le controriforme di scuole e università, che depotenziano, se non distruggono la possibilità che siano luoghi di creazione e discussione del sapere critico, di capacità critica, come era scritto in un documento della Pantera, 1989-1990, a servire la ricerca equivale a sostenere l'impossibilità di criticare il presente. Ecco, questo per tacere poi del distenso che non si può esprimere nemmeno a livello di rappresentanza politica, col sistema elettorale, eccetera. Ecco, tutto questo è in contrasto con la Costituzione, che riconosce il conflitto, la democrazia e conflitto, che valorizza la partecipazione, che persegue l'emancipazione, che garantisce i diritti e che sancisce come principio la solidarietà. Come reagire, che fare di fronte a questa situazione? Non c'è altra soluzione che continuare ad agire il conflitto, a esercitare pensiero critico, a disobbedire all'egemonia neoliberista. Come scriveva Eric Fromm, nell'attuale fase storica, la capacità di dubitare, di criticare e di disobbedire può essere tutto ciò che si interpone tra un futuro per l'umanità e la fine della civiltà. È attraverso il distenso, attraverso la disobbedienza, che passa la critica dell'esistente, che si può trasformare quello che è lo stato di cose presenti, ovvero che può vivere la possibilità di un altro futuro, a volte di un futuro. Per chiudere torno un attimo alla Costituzione. Parlare della Costituzione oggi è fonte di disagio, di disagio ma anche di consapevole speranza. Perché? È fonte di disagio perché so di parlare di un diritto inattuato, quasi di un sogno più che di una norma giuridica, per cui ci si sente illusi, ci si sente anacronistici a parlare di Costituzione oggi. Però accanto a questo c'è la consapevole speranza, che deriva invece dal fatto che la Costituzione esprime un'utopia concreta, cioè esprime dei principi che sono profondamente radicati nella storia. La Costituzione è nata dalla resistenza, è nata da una lotta, è nata da un conflitto e il radicamento nella storia significa anche appartenenza alla dialettica della storia, con i suoi corsi e dei ricorsi. La Costituzione quindi può essere argine contro la barbarie e può essere anche terreno su cui costruire. Questo sta a noi. La Costituzione, e parafraso una frase non di un giurista, ma del Che Guevara, può essere la nostra casa ambulante, la nostra casa ambulante che è fondata su emancipazione, liberazione, uguaglianza, solidarietà, conflitto, dissenso. Se noi, nelle nostre lotte, nelle lotte per l'ambiente, nelle lotte per la casa, nei luoghi di lavoro, nei luoghi di studio, stiamo le gambe che la fanno camminare. E per farla camminare oggi è necessario agire in direzione ostinata e contraria e possibilmente, come diceva prima anche Maurizio, farlo insieme, in tanti e uniti. Mi fermo qui.